Un ciclo di convegni dedicato alle donne. E che ci vuole dire come mai? Abbiamo pensato in Epicurea di rivolgersi all'universo femminile perché normalmente l'universo femminile ama raccontarsi, ma ci rivolgiamo anche all'universo maschile che vuole venirci ad ascoltare. L'idea è nata dal poter riuscire a entrare in ogni ambito in cui la donna si occupa, in questo caso la prima serata è la politica, ma sono anche ambiti psicologici, per capire qual è la visione femminile che loro portano, che noi portiamo all'interno delle nostre situazioni lavorative, situazioni familiari. Quindi cercare di capire se c'è una visione femminile che può arricchire il mondo esterno. Questa era un po' la cosa. Ma le donne si occupano ancora della famiglia? Io credo di sì, si occupano ancora della famiglia, ma credo che siano cambiati molti meccanismi, insomma, che magari cerchiamo anche di spiegare. Perché no? Perché lavoro e famiglia, anche quello è un ambito che è cambiato da 50 anni a questa parte, quindi abbiamo una visione diversa di noi e di come presentarci al mondo. Le donne nella politica, e qui parliamo con una che è stata assessore ed ora consigliere comunale, ma fa politica da tanto tempo. Qual è la visione della politica di Giulia Piroli? Beh, la visione della politica è una politica fatta di grande attenzione, di sensibilità verso le persone, soprattutto le persone che hanno bisogno. E quindi trovare tutti i modi a attivarsi, studiare tutte le nuove politiche per una società che è sempre più in difficoltà e con soggetti fragili, parlo degli anziani, bambini e famiglie intere. E certo che la politica però spesso non è fatta per le donne, perché? Perché per il tempo, la disposizione, perché è difficile conciliare la vita, e la vita normale di una donna con una famiglia e la politica. E poi, insomma, il tema della rappresentanza, della consapevolezza. Spesso noi donne siamo le prime a colpevolizzarci e a non prendere coscienza delle nostre vere potenzualità, mentre invece i uomini si buttano, diciamo. Invece noi donne ci facciamo molti più problemi. E quindi il tema vero è, insomma, tutte queste conquiste negli anni, le conquiste in tema dei diritti delle donne, che sempre più sono compromessi. E quindi bisogna lavorare molto, soprattutto con le ragazze di oggi, perché prendano sempre di più consapevolezza delle conquiste fatte dalle loro mamme, dalle loro nonne. E quindi, soprattutto, che non si rendano schiave di ristereotipi, che purtroppo alcun giorno d'oggi sono forti nella nostra cultura. Lavoro e politica, c'è il rischio che la famiglia rimanga un po' indietro? No, è il rischio che la donna rimanga indietro, perché deve conciliare la famiglia. E quindi il tema vero è che bisognerebbe aumentare i servizi, servizi come gli asidi nido, come le scuole a tempo pieno, magari anche negli orari quando le mamme lavorano. E poi il tempo di cura, il tempo dedicato, ad esempio, anche ai genitori anziani. E quindi una politica al giorno d'oggi deve essere attenta verso questi nuovi bisogni, perché una donna prima deve curare i figli, poi deve curare i genitori anziani. E quindi, insomma, la politica deve essere attenta rispetto a questi nuovi bisogni, che si fanno sempre più urgenti. Se pensiamo poi in una società come la nostra, che si sta sempre più aumentando l'età media, quindi siamo sempre più verso la terza età, aumenta la popolazione anziana. E quindi la politica ad oggi deve intervenire offrendo più servizi, soprattutto in questo settore. Le donne in politica. Qual è il messaggio che le donne, così che stanno lavorando per la politica piacentina, vogliono dare alle altre donne? Ma più che alle donne, io direi che oltre alle donne bisogna dare un messaggio agli uomini, perché si è parlato tanto di eguaglianza e dagli anni 70 adesso noi abbiamo ottenuto, diciamo, delle briciole, perché sempre di più gli eletti sono quasi sempre uomini e se non avessero introdotto nel 2013 l'equaterosa, saremmo ancora di quelle persone non candidate. Io direi che un messaggio che deve essere dato alle altre donne è che si può fare politica, mantenendo comunque una vita personale con la famiglia, mantenendo i rapporti che si hanno sul posto di lavoro. Invece agli uomini il messaggio che voglio dare è quello di candidare più donne, ma soprattutto di dare dei posti anche importanti, perché la donna, ricordiamo sempre, è una grandissima, bravissima amministratrice e organizzatrice e gli uomini un po' meno, quindi serve avere delle donne all'interno. Assessore è un ruolo molto importante e molto impegnativo, quindi una donna in politica molto impegnata. Dico sempre, se avessi una famiglia non riuscirei a gestire il tutto, credo, con una delega del genere, però è anche una delega che dà molte soddisfazioni. Io sono molto contenta di quello che sto facendo, mi sono messa alla prova, è stata un po' anche per me stessa una scommessa, però è una scommessa che rifarei altre mille volte, perché, ripeto, è una delega che comunque dà tante soddisfazioni, è una delega che ti mette a contatto con le persone, con le persone spesse volte anche in condizioni di fragilità e quando hai un ringraziamento da queste persone ne basta uno per cambiarti la giornata e mi viene da dire anche la settimana. Ecco, ma perché gli elettori votano poco le donne? Si è dovuta arrivare addirittura alle quote rosa, eccetera, eccetera? Ma io non so dire, sinceramente, se sia. Forse noi donne ci stimiamo anche poco, ci sottovalutiamo un pochino, quindi magari parte dal fatto che la donna magari non ami la competizione, non abbia voglia di scendere in politica, poi magari c'è anche un discorso di partito e poi, perché no, di elettori, quindi io dico sempre agli elettori ricordiamoci l'8 marzo, ma nella cabina elettorale ricordiamoci che ci sono anche le donne. Una donna particolarmente impegnata, prima consigliere comunale, adesso assessore e i tempi per la vita privata si astottigliano sempre di più. Che messaggio possiamo lanciare alle altre donne? Ce la possiamo fare? Sicuramente ce la possiamo fare. Essere donna vuol dire essere tante cose, vuol dire essere in grado di seguire le proprie passioni, quindi che per me è la politica, vuol dire riuscire a conciliare le proprie passioni col lavoro e anche con la famiglia. Diciamo che le giornate sono di 24 ore, ma riusciamo a fare miracoli. Ecco, magari la famiglia è quella un po' più penalizzata per una donna in politica? Ma questo no, poi dipende anche molto dalla famiglia, nel senso che avere un impegno come quello che posso avere io in questo momento con la politica, vuol dire anche avere una famiglia dietro che sostiene, che partecipa e che ovviamente riesce a dare tutta la comprensione che è possibile. Poi in ogni caso, cioè deve sempre esserci un momento anche per la famiglia, quindi quello sicuramente non passa mai in secondo piano. Perché gli elettori votano poco le donne e si deve arrivare le Quaterosa e tutte le altre cose istituzionali che vengono messe in campo per portare le donne diciamo all'apice della politica? Questa è una bella domanda. Io faccio una permessa. All'inizio, quando ho iniziato nel mio percorso politico, ero quasi contraria all'Equaterosa. Poi intraprendendo comunque la, non diciamo carriera, ma comunque un percorso politico anche a livello elettorale, sia nelle mie esposte e quant'altro, ho capito che in realtà sono necessarie perché purtroppo, in effetti, le donne sono sempre meno votate. Perché gli uomini tendono a votare gli uomini e le donne purtroppo tendono a votare gli uomini. Ed è per questo che i momenti comunque di confronto, anche oltre ai partiti, oltre alle posizioni politiche, sono importanti proprio per fare rete, per fare squadra, perché a prescindere dall'ideologia politica bisogna fare persare il messaggio che anche ci sono donne competenti, determinate, che possono fare tanto per il bene del paese, a prescindere appunto dal partito di appartenenza. La politica è molto impegnativa per le donne, soprattutto quando si vuole cambiare o portare idee nuove in un consesso dove ci sono tanti uomini. Sì, questo è vero, però le donne sono un valore aggiunto, non una difficoltà, e quindi devono essere valorizzate maggiormente. Questo è alla base, diciamo, del problema e della motivazione per cui le donne ci sono in minoranza in politica rispetto agli uomini. E valorizzarle serve per dare una visione diversa della politica, per capire che l'impegno che mettono nella cosa pubblica e nel servizio che danno è determinante. Un'ultima battuta. Allora, l'impegno in politica deprime un pochino la famiglia? Sì, in questo caso sì, perché l'impegno in politica è totalizzante. E quindi bisogna essere sempre presenti in ogni momento. Io ricordo quando ero in Consiglio Comunale comunque che arrivavo a sera, tardi, a studiare degli atti, a verificare dei documenti, a controllare la posta, a rispondere alle mail. Quindi è totalizzante. Questo sì, e la famiglia comunque viene penalizzata. E purtroppo così è. è molto difficile coniugare al massimo tutto ed è proprio per questo che ci sono, secondo me, molte e meno donne in politica, proprio perché coniugare tutto non è semplice. Cosa dobbiamo dire alle altre donne per fare votare le donne? Per far votare le donne forse è semplicemente che abbiamo più sensibilità magari per determinati temi e secondo me siamo anche più decisioniste in molti ambiti. Famiglia e affetti vengono penalizzati dall'impegno politico? Allora, un pochettino di tempo per forza di cose si toglie. Io ho una bimba piccola e non posso dire di non toglierle tempo. Un pochettino sì. Ecco, e che cosa dicono in famiglia? Si arrabbiano quando la consigliera comunale fa tardi a casa? No, no. Io devo dire che ho un marito che mi appoggia tantissimo. anche lui fa politica quindi forse mi capisce. Quindi su quello assolutamente sono sostenuta. Ecco, ma perché si devono istituire le quote rosa per avere una rappresentanza femminile decente? E allora, io non sono d'accordo sinceramente con le quote rosa però purtroppo effettivamente le donne fanno un po' più fatica sia nel mondo del lavoro che nel mondo della politica. Probabilmente hanno ritenuto di costituirle per questo motivo. Ecco, io non sono favorevole. Grazie.